E' polemica paganica sul ponte e sul raiale. I lavori sono fermi ma i cittadini si riappropriano del ponte, chiuso quattro anni fa a causa di alcune criticità su travi portanti appoggi. La neve ha provocato il cedimento della recensione del cantiere che blocca l'accesso al ponte sul raiale, che è un importante collegamento viario tra la 17 e il centro storico della frazione. I pedoni da alcuni giorni sono tornati a usare il ponte, anche in maniera un po' provocatoria. I lavori da 400.000 euro sembrano essere terminati, ma l'opera sembra essersi stoppata e il condizionale è d'obbligo nelle fauzi del collado finale. La gente è esasperata, l'aveva fatto presente Deborah Palmerini del circolo locale del PD. Paolo Romano invece produce un'interrogazione sull'argomento. Un'interrogazione urgente per capire quali sono i motivi di quattro anni di ritardo, quattro anni di chiusura del ponte, di lavori, pensate 12 metri di ponte per 400.000 euro. Parliamo di un importo lavori sotto soglia comunitaria che sarebbero dovuti essere accelerati, invece così non è stato. Se poi lo accostiamo a quella che è la criticità a livello di ponti maggiore della città dell'Aquila, che è il ponte Belvedere, vediamo che è ancora più imbarazzante. Il ponte Belvedere si poteva ricostruire in un anno, il ponte Raiale di 12 Merri in quattro anni ancora non si riesce ad aprire. Ma quello che manca è la comunicazione istituzionale. La città si interroga e il comune non risponde. Bisogna spiegare al cittadino quello che è successo ma quello che oggi ancora non sta avvenendo, cioè l'apertura. Perché sono finiti i lavori e perché non si riesce ad aprire questo ponte. Poi l'ultimo fatto è quello di ieri perché la nevicata pesante ha di fatto eliminato quelle che erano le barriere protettive del ponte e ha portato a un transito dei pedoni che non doveva esserci, come se di fatto il consolidamento o meglio il controllo statico lo dovessero fare i pedoni. C'è bisogno di risposte, c'è bisogno di una maggiore vicinanza dell'amministrazione comunale e questa interrogazione vuole dare proprio questo con concretezza e con vicinanza verso la cittadinanza di Paganica.